Domani i campi molisani apriranno il sipario alla non aggiornata dei due campionati regionali. Per l'eccellenza il primo via sarà dato alle 14.30 ai piedi del Matese, dove i padroni di casa ospiteranno il Venafro. Se i primi dovranno fare i conti con l'aspra sconfitta dello scorso weekend contro il Vasto Girardi, i secondi invece possono dirsi soddisfatti dei tre punti conquistati contro il sesto campano, che gli ha permesso di avanzare in classifica posizionandosi al secondo posto. Ad arbitrare il match, la scaro della sezione di Matera. Alla medesima ora, nello stadio comunale del sesto campano, Petraglione della sezione di Campobasso fischierà il calcio d'inizio per la gara sesto campano-FVP Matese. Se entrambe le squadre saranno in cerca di punti necessari per riprendersi dagli scorsi incontri, numeri alla mano è ben chiaro che più determinati risulteranno essere i biancoverdi, che sono a secco di gol da quattro giornate. Speriamo che le condizioni meteorologiche permettano la riuscita di questo scontro, che ha tutte le carte in tavola per definirsi avvincente. Ultima gara di giornata per l'eccellenza riguarda le Acli Campodipietra, che alle ore 15 ospiteranno il Roseto. I ragazzi di Mister Rienzo, che sono riusciti nelle ultime dispute a riprendersi dallo zero, che li aveva quasi contrassegnati in questo inizio stagione, dovranno vedersela con una squadra che ha fatto molto parlare di sé in questa settimana, dopo il poker realizzato contro l'Olimpia Riccia, a dirigere il match scarati della sezione di Termoli. Per la promozione, primi protagonisti in campo bianco-azzurro alle ore 14.30, Baranella Aurora Capriatese. Gara ostica per i padroni di casa, che avranno filo da torcere contro una rosa che vanta una media di tre golle a partita e una sola sconfitta. Arbitrerà Ferrara della sezione di Sernia. Chiuderanno la giornata alle ore 15 riparimosani spinete. I gialloverdi, che la scorsa domenica, sullo sfondo del forte maltempo, hanno incassato un netto e duro 3-0, dovranno puntare tutto sul gioco di squadra, per far fronte ai promettenti avversari che stanno dando sempre più forma alla loro ascesa in classifica. Direttore di gara, Maglioli, della sezione di Sernia.